Vediamo un po' se vi posso dare una mia opinione su questo gioco. Intanto la mia prima impressione è stata veramente positiva, è un gioco che mi è piaciuto tantissimo. Partiamo con qualche considerazione sui materiali, i quali sono di ottima fattura, mi piace tantissimo la schedina da inserire dentro la nostra campana. Le carte sono ottime, i dadi sono buoni, rotolano bene e anche la tessera dei round è di cartone piuttosto solido. Quindi sicuramente promosso. Quindi per i materiali ci siamo assolutamente. Passiamo al secondo punto che è la grafica. Il concetto chiave di questo gioco è il colore, inteso proprio come tonalità ma anche come sfumatura, sia a livello di grafica che a livello di gioco. Infatti quando dobbiamo collezionare i 5, i 6 oppure i 3, i 4 in coppia, il gioco richiama sfumature scure, sfumature medie, sfumature chiare. Quindi il grado di sfumatura dato dal numero del dado. La grafica tiene veramente testa questo concetto. Non ci sono mille illustrazioni di personaggi fantasy, però è molto d'impatto, che è proprio quello che dobbiamo cercare di fare nel gioco, cioè creare la vetrata più bella possibile. Quindi la grafica è assolutamente magnifica. Chiarezza dei simboli e del regolamento. Il regolamento è molto corto, i simboli sono davvero chiari. L'unica cosa che io avrei migliorato, se a pensarci bene, avrei fatto una paginetta in più per descrivere gli utensili. Quindi magari spiegarli anche con qualche esempio. Con qualche utensile ci siamo trovati un attimo in alto mare, però nulla di compromettente. I simboli invece delle carte e anche della nostra griglia sono assolutamente chiarissimi e inconfondibili. Quindi chiarezza direi quasi al top. Parliamo ora del tema, come vi avevo già detto prima, riguarda la grafica. Tema e grafica sono due cose legate in questo gioco, nel senso che il gioco stesso vuol far ricreare ai giocatori la vetrata più bella possibile, attraverso i colori. Diciamo che possiamo fare un parallelo tra il dado del certo colore che si incastra dentro la griglia, come un pezzo di vetro che va messo nella vetrata della Sagrada Famiglia. Quindi il tema c'è ed è anche legato al prossimo punto, che sono le meccaniche. In che modo? Beh, la meccanica principale è il piazzamento dadi e c'è anche una sorta di draft. Non è proprio un draft, però diciamo è una scelta da una pool comune. E proprio la meccanica di piazzamento del dado si riassomiglia al fatto di comporre con un pezzettino di vetro una grande vetrata. Quindi anche teme meccaniche vanno a braccetto. Che peso ha questo gioco? Beh, diciamo io lo considero a livello di velocità di spiegazione, è un gioco leggero ma non assolutamente banale. È profondo e può arrivare a essere anche molto brucia cervello. Io nel scorso video ho fatto l'esempio di un gameplay di due giocatori con due schemi di difficoltà 3, che è quella minore, ma con altri tipi di schemi è veramente difficile tenere insieme tutti i pezzi. Quindi lo definirei un peso leggero ma profondo. Parliamo ora del costo. Questo è un titolo che non costa cifre astronomiche, ma non è neanche a livello dei 15 euro di un filler. Quello che vi posso dire è che dal momento della sua uscita ha veramente sbalordito e conquistato tantissimi giocatori e ha conquistato alla fine anche me e quindi mi sento di dirvi che vale davvero i soldi che costa. Rigiocabilità. Diciamo che sicuramente è alta, nel senso che le combinazioni delle carte, degli obiettivi personali, con gli obiettivi comuni e degli utensili, mescolate anche alla difficoltà della nostra plancia, creano una buona rigiocabilità. Quindi si creeranno situazioni sempre diverse. Direi che i concetti base sono un po' questi. Io come al solito vi ringrazio per aver visto il mio video e ci vediamo alla prossima. Ciao!